Percy. Percy si sentiva trascurato. Tanto per cominciare era stato cacciato d'Atlanta da due malvagie divinità marine. Poi non era riuscito a fermare l'attacco di un gambero gigante a largo due. Infine gli Ittio Centauri, i fratelli di Chirone, non avevano neppure voluto conoscerlo. E come se tutto ciò non bastasse, una volta arrivati alle colonne d'Ercole, lui era dovuto restare a bordo, mentre il grande Jason era andato a trovare il suo fratellastro. Si trattava di Ercole, il più famoso semidio di tutti i tempi, e Percy non aveva conosciuto neppure lui. Sì, certo, da quello che aveva raccontato Piper, Ercole era un perfetto idiota, eppure lui era stufo di rimanere a bordo a camminare su e giù per il ponte. Il mare aperto avrebbe dovuto essere il suo territorio. Percy avrebbe dovuto farsi avanti, prendere il comando e proteggere tutti. Invece, durante la traversata dell'Atlantico, non aveva fatto altro che chiacchierare con gli squali e ascoltare Edge, che cantava le sigle dei programmi televisivi. A peggiorare la situazione, da quando avevano lasciato Charleston, Annabeth gli sembrava distante. Trascorreva quasi tutto il tempo in cabina a studiare la mappa di bronzo che aveva recuperato a Fort Sumter, o a cercare informazioni sul computer di Dedalo. Ogni volta che Percy passava a trovarla, era così assorta nei propri pensieri, che la conversazione andava più o meno in questo modo. Percy. Ehi, come va? Annabeth. Eh, no, grazie. Percy. Ok. Hai mangiato qualcosa oggi? Annabeth. Credo che Leo sia di Corvè, chiedilo a lui. Percy. Percy. Beh, ho i capelli a fuoco. Annabeth. Ok, tra un attimo. Era una delle difficoltà da affrontare, se la tua ragazza era una figlia di Atena. Eppure Percy si domandava cosa avrebbe dovuto fare per attirare la sua attenzione. Dopo l'episodio di ragni a Fort Sumter, era preoccupato per lei, ma non sapeva come aiutarla, soprattutto se lei lo teneva a distanza. Lasciate le colonne d'Ercole, sani e salvi, tranne per qualche noce di cocco conficcata nel rivestimento di bronzo dello scafo, la nave aveva continuato a volare per qualche centinaio di chilometri. Percy si augurava che le antiche terre non fossero pericolose come avevano sentito dire, ma sembrava quasi uno spot pubblicitario. Noterete subito la differenza. La nave subiva diversi attacchi ogni ora. Uno stormo di uccelli carnivori di Stinfalo piombò di notte dal cielo. Efestus li incenerì. Gli spiriti della tempesta cominciarono a turbinare intorno all'albero maestro e Jason li folgorò. Mentre Edge cenava sul ponte di prua, un Pegaso selvaggio spuntò fuori dal nulla, si fiondò sull'Enciladas del Satiro e volò di nuovo via, lasciando l'impronte degli zoccoli imbrattati di formaggio su tutto il ponte. «Ma perché?», si era chiesto Edge, affranto. Nel vedere il Pegaso, Percy aveva sentito la mancanza di Blackjack. Non lo vedeva da diversi giorni. Neanche Tempesta e Arion si erano fatti vivi. Forse non avevano voglia di avventurarsi nel Mediterraneo. Se le cose stavano così, lui non li biasimava. Infine, verso mezzanotte, dopo il nono o il decimo attacco aereo, Jason si girò verso Percy. «Che ne diresti di dormire un po'? Io continuerò a eliminare quello che passa per il cielo finché ci riesco. Poi proseguiremo via mare e prenderai tu il comando». Percy non sapeva se sarebbe stato capace di dormire con la nave che dondolava tra le nuvole, scossa da spiriti del vento inferociti, ma la proposta di Jason era sensata. Andò sotto coperta e crollò a letto. I suoi incubi, naturalmente, furono tutt'altro che riposanti. Sognò di trovarsi in una grotta buia. Non riusciva a spingere molto avanti lo sguardo, ma lo spazio doveva essere ampio. Da qualche parte c'era dell'acqua che gocciolava e il rumore cheggiava su pareti lontane. Da come si muoveva l'aria, Percy sospettò che il soffitto della caverna fosse molto alto. Udì dei passi pesanti e i giganti gemelli e Fialte Otto emersero dall'oscurità. Percy riusciva a distinguerli solo grazie ai capelli. E Fialte aveva i dread viola intrecciati con monete d'oro e d'argento. Otto portava una coda di cavallo verde intrecciata con… petardi? Per il resto erano vestiti in modo identico e le loro mise erano senz'altro degne di un incubo. Indossavano pantaloni bianchi molto larghi e camicie da pirata color oro con lo scollo a V che lasciava scoperti troppi peli sul petto. Le cinture di strass facevano da supporto a una dozzina di pugnali inguainati. Portavano sandali aperti sul davanti a mostrare che avevano serpenti al posto dei piedi. I cinturini dei sandali cingevano il collo degli animali. Le teste erano ragomitolate dove avrebbero dovuto esserci gli alluci. I serpenti facevano scattare la lingua per l'eccitazione e puntavano gli occhi dorati in ogni direzione, come cani che guardino fuori dal finestrino di un'auto. Forse era passato molto tempo dall'ultima volta che avevano avuto un paio di scarpe con vista. I giganti erano davanti a Persi, ma non gli prestavano nessuna attenzione. Anzi, fissavano l'oscurità sopra di loro. «Ci siamo!» annunciò i fialte. Nonostante la voce roboante, le sue parole si dispersero nella grotta, riechieggiando finché non divennero impalpabili e insignificanti. Dall'alto, qualcosa rispose «Sì, me ne sono accorta. È difficile non notarvi, vestiti come siete». Udendo quella voce, Persi si sentì sprofondare lo stomaco di una ventina di centimetri. Sembrava vagamente femminile, ma per niente umana. Ogni parola era un simbilo confuso di varie tonalità, come se uno sciame di api assassine africane avesse imparato a parlare. Non era Gea, Persi ne era sicuro. Ma chiunque fosse, i giganti gemelli si nervosirono. Spostarono il peso del corpo da un serpente all'altro e chinarono rispettosamente la testa. «Senz'altro, sua signoria», disse Fialte. «Rechiamo notizie di come mai siete vestiti così», domandò la figura nell'oscurità. Non sembrava che si stesse avvicinando, e a Persi andava benissimo così. E Fialte lanciò un'occhiata stizzita al gemello. «Mio fratello avrebbe dovuto essere vestito in modo diverso. Purtroppo hai detto che sarei stato io il lanciatore di coltelli oggi», protestò Otto. «Ho detto che sarei stato io. Tu dovevi essere il mago. Ah, mi perdoni, sua signoria. Non vorrà certo sentirci litigare. Siamo venuti a recar le notizie, come richiesto. La nave si sta avvicinando». Sua signoria, chiunque fosse, emise una serie di sibili violenti, come uno pneumatico squarciato varie volte di fila. Con un brivido, Persi capì che rideva. «Quanto manca», domandò la voce misteriosa. «Dovrebbero atterrare a Roma poco dopo l'alba, credo», rispose Fialte. «Naturalmente dovranno vedersela con il ragazzo d'oro». Ghignò, come se il ragazzo d'oro non fosse precisamente il suo beniamino. «Speriamo che arrivino sani e salvi», commentò sua signoria. «Ci rovinerebbe il divertimento, se venissero catturati troppo presto. Avete fatto i vostri preparativi». «Sì, sua signoria». Otto mosse un passo avanti e la caverna tremò. Una crepa comparve sotto il suo serpente sinistro. «Fai attenzione, stolto», ringhiò sua signoria. «Vuoi tornare nel tartaro in malo modo». Otto balzò all'indietro, con la faccia sconvolta dal terrore. Persi si rese conto che il pavimento, che sembrava di pietra dura, assomigliava più ai ghiacciai su cui aveva camminato in Alaska. In alcuni punti era solido, in altri non troppo. Era contento di essere privo di peso nei sogni. «C'è rimasto ben poco a tener su questo posto», disse sua signoria. «Tranne ovviamente la mia abilità. Secoli e secoli di rabbia di Atena si possono al massimo contenere, e la grande madre terra ribolle sotto di noi nel sonno. Tra queste due forze, beh, il mio rifugio è stato parecchio intaccato. Dobbiamo sperare che questa figlia di Atena si dimostri una degna vittima sacrificale. Potrebbe essere il mio ultimo giocattolo». E Fialter restò senza fiato. Teneva gli occhi fissi sulla crepa nel pavimento. «Ben presto non avrà più nessuna importanza, sua signoria. Gea sorgerà, e noi tutti saremmo premiati. Lei non dovrà più sorvegliare questo luogo né tenere nascoste le sue opere. Mi mancherà il dolce sapore della vendetta. Abbiamo lavorato bene insieme nel corso dei secoli, no?». I gemelli si inchinarono, le monete scintillarono tra i capelli di Efi Alte, e Persi capì con nauseante certezza. E alcune di esse erano dracme d'argento, proprio come quella che Annabeth aveva ricevuto dalla madre. Annabeth gli aveva spiegato che a ogni generazione. Alcuni figli di Atena venivano mandati in missione per recuperare la statua del partenone andata perduta. Nessuno aveva mai avuto successo. «Abbiamo lavorato bene insieme nel corso dei secoli». Le monete che il gigante Efi Alte aveva fra le trecce risalivano chissà quanti secoli prima. Erano centinaia di trofei. Persi immaginò Annabeth lì da sola nel buio, e il gigante che prendeva la sua moneta e l'aggiungeva alla collezione. Avrebbe voluto sguainare la spada per tagliare quei capelli a partire dal collo. Ma nel sogno era impotente. Poteva solo guardare. «Sua signoria», disse nervosamente Fialte, «mi preme ricordarle che Gea vuole che la ragazza venga catturata viva. Lei può torturarla, farla impazzire, qualsiasi cosa desideri, naturalmente. Ma il suo sangue dovrà essere versato sulle antiche pietre». Sua signoria similò. «Altri potrebbero essere utilizzati a questo scopo». «Sì», concordò Efi Alte, «ma sarebbe meglio se fosse questa ragazza e il ragazzo il figlio di Poseidone. Suppongo capisca perché questi due sarebbero i più adatti al compito». Persi non sapeva bene cosa significasse, ma aveva voglia di spaccare il pavimento e spedire nell'oblio quei due stupidi gemelli con la camicia d'oro. Non avrebbe mai permesso a Gea di versare il suo sangue per nessun motivo. E mai e poi mai avrebbe permesso che qualcuno facesse del male ad Annabeth. «Vedremo», bofonchiò sua signoria. «Adesso lasciatemi sola. Occupatevi dei preparativi. Avrete il vostro spettacolo. E io lavorerò nell'oscurità». Il sogno si dissolse. Persi si svegliò di soprassalto. Jason stava bussando alla porta della sua cabina, che era aperta. «Siamo scesi in acqua». disse, con l'aria sfinita. «Tocca a te adesso». Persi non avrebbe voluto, ma svegliò Annabeth. Pensò che perfino Edge non sarebbe dispiaciuto se parlavano dopo il coprifuoco, se ciò significava darle informazioni che avrebbero potuto salvarle la vita. Erano sul ponte da soli, a parte Leo, che era ancora al timone. Doveva essere a pezzi, ma si rifiutava di andare a dormire. «Non voglio più sorprese stile Gamberzilla», insisteva il figlio di Efesto. Avevano tutti tentato di convincerlo che l'attacco della scolopendra non era avvenuto solo per colpa sua, ma lui non li ascoltava. Persi non faticava a capire come si sentisse. Non perdonarsi i propri errori era uno dei suoi maggiori talenti. Erano circa le quattro del mattino. Il tempo era orribile. La nebbia era così fitta che Persi non riusciva a vedere Festus all'estremità della prua, e una pioggerellina calda stava sospesa nell'aria come una tenda di perline. Mentre solcavano onde alte sei metri, con il mare che si agitava sotto di loro, Persi sentiva la povera Hazel che giù in cabina… beh, si agitava pure lei. Nonostante tutto, però, era contento di essere tornato sull'acqua. Era meglio che volare in mezzo a nubi temporalesche o venire attaccato da uccelli antropofagi e pegasi ghiotti di Enciladas. Si affacciò con Annabeth al parapetto di prua e le raccontò il sogno che aveva fatto. La sua reazione fu perfino più preoccupante di quanto lui avesse immaginato. Non sembrò affatto sorpresa. Persi, devi promettermi una cosa. Non raccontare questo sogno agli altri, gli disse fissando la nebbia. Non devo cosa? Annabeth, quello che hai visto riguarda è il marchio di Atena. Agli altri non serve saperlo. Si preoccuperebbero e basta. E per me sarebbe più difficile andarmene da sola. Non direi sul serio. Quella voce nell'oscurità, la grande sala con il pavimento che si sgretolava. Lo so. Il volto di Annabeth era di un pallore innaturale e Persi sospettò che non fosse solo per via della nebbia. Ma devo farlo da sola. Il figlio di Poseidone ricacciò indietro la rabbia. Non capiva se fosse furioso con Annabeth, con il sogno o con tutto il mondo greco-romano, che aveva resistito per tremila anni, plasmando la storia dell'umanità, con un solo obiettivo nella testa. Rovinare quanto il più possibile la vita di Persi Jackson. Tu sai cosa c'è in quella caverna, vero? Ha a che fare con i ragni? Sì, rispose Annabeth, con un filo di voce. Allora come puoi, anche solo... Persi non finì la frase. Sapeva per esperienza che, una volta che lei aveva deciso, discutere non serviva a niente. Ripensò a una notte di tre anni e mezzo prima, quando avevano recuperato Nico e Bianca di Angelo nel Main. Annabeth era stata catturata ad Atalante, uno dei titani. Per un po', Persi non aveva saputo se fosse viva o morta. Aveva viaggiato in lungo e in largo per tutto il paese, per salvarla dalle grinfie di Atalante. Erano stati i giorni più difficili della sua vita, non solo per i mostri e per i combattimenti, ma per la preoccupazione. Come poteva lasciarla partire, sapendo che stava andando verso qualcosa di ancora più pericoloso? Poi capì, quello che lui aveva provato allora, per pochi giorni. Era ciò che Annabeth aveva provato nei sei mesi in cui lui era sparito e aveva perso la memoria. Si sentì in colpa e anche un po' egoista a starsene lì a discutere con lei. Annabeth doveva partire per la sua missione. Il destino del mondo poteva dipendere da quello. Ma una parte di lui avrebbe voluto dire «Al diavolo il mondo!» Non voleva fare a meno di lei. Persi fissò la nebbia. Non vedeva nulla, ma si orientava perfettamente in mare. Conosceva la latitudine e la longitudine esatte. Conosceva la profondità dell'oceano e la direzione in cui si spostavano le correnti. Conosceva la velocità a cui viaggiava la nave e percepiva che non c'erano scogli, barre di sabbia o altri pericoli naturali sulla loro rotta. Eppure, quella cecità era inquietante. Non avevano più subito attacchi da quando erano tornati sull'acqua, ma il mare sembrava diverso. Persi era stato nell'Atlantico, nel Pacifico e perfino nel Golfo dell'Alaska, ma il Mediterraneo sembrava più antico e potente. Percepiva i vari strati che turbinavano sotto di lui. Ogni eroe greco romano aveva navigato su quelle acque, da Ercole a Enea. I mostri abitavano ancora nei suoi abissi ed erano così avvolti nella foschia che dormivano quasi sempre. Tuttavia, Persi sentiva che cominciavano ad agitarsi, reagendo allo scafo di bronzo celeste di una trireme greca e alla presenza del sangue dei semidei. «Sono tornati», sembravano dire i mostri. «Finalmente un po' di sangue fresco». «Non siamo lontani dalla costa italiana», disse Persi, soprattutto per rompere il silenzio. «Mancheranno meno di duecento chilometri alla foce del Tevere». «Bene», commentò Annabeth, «prima dell'alba dovremmo fermarci». Persi si sentì investire da un'ondata di gelo. «Dobbiamo fermarci». «Perché?» «Leo, fermati!» gridò Persi. Troppo tardi. Un'altra barca sbucò dalla nebbia e li speronò di prua. In quel millesimo di secondo, Persi registrò alcuni particolari a caso. Un'altra trireme, vele nere con la testa di una gorgone dipinta sopra, guerrieri enormi, non del tutto umani, che gremivano la parte anteriore della nave, vestiti con l'armatura greca, spade e lance in resta. Infine, un'ariete di bronzo che sbatte contro lo scafo del Largo 2. Annabeth e Persi per poco non furono scagliati fuori bordo. Festus sputò fuoco, spingendo una dozzina di guerrieri allibiti e urlanti a tuffarsi in mare, mentre molti altri si riversarono a bordo del Largo 2. Cime dotate di rampini andarono ad avvolgersi intorno ai parapetti e all'albero maestro, piantando artigli di ferro nelle assi dello scafo. Quando Persi si riprese, i nemici erano ovunque. Non riusciva a vedere bene attraverso la nebbia e l'oscurità, ma gli invasori sembravano delfini umanoidi, o umani delfinoidi. Alcuni avevano il muso grigio, altri impugnavano la spada con pinne rachitiche. Alcuni camminavano dondolandosi su gambe in parte fuse in un unico blocco, altri avevano le pinne al posto dei piedi, come le scarpe dei clown. Leo suonò l'allarme. Si precipitò verso la balista più vicina, ma fu travolto da un mucchio di guerrieri delfino schiamazzanti. Annabeth e Persi stavano schiena contro schiena, come avevano fatto molte altre volte, ad armi sguainate. Persi tentò di evocare le onde, sperando di separare le navi o addirittura di rivaltare il vascello nemico. Ma non accade nulla. Ebbe quasi la sensazione che qualcosa si opponesse alla sua volontà, strappandogli il controllo del mare. Solleva vortice pronto a combattere, ma i sette avevano uno svantaggio numerico tremendo. Decine di guerrieri abbassarono le lance, creando un anello intorno a loro e tenendosi saggiamente a distanza dalla spada di Persi. I guerrieri delfino aprirono bocca, emettendo suoni schioccanti e sibilanti. Persi non aveva mai pensato a quanto sembrassero feroci i denti di un delfino. Tentò di ragionare. Probabilmente avrebbe potuto rompere il cerchio e annientare qualche invasore, ma non senza che gli altri infilzassero lui e Annabeth. Per fortuna, però, i guerrieri non sembravano intenzionati a ucciderli subito. Continuarono ad accerchiarli, mentre i loro compagni si riversavano sotto coperta e prendevano possesso dello scafo. Persi li sentì sfondare le porte delle cabine e battersi contro i suoi amici. Anche se gli altri semidei non fossero stati mezzo addormentati, non avrebbero avuto nessuna possibilità contro così tanti avversari. Leo venne trascinato dall'altra parte del ponte e scaraventato su un mucchio di cime, dove rimase a mugolare semisvenuto. Sotto coperta, il rumore del combattimento scemò a poco a poco. I nemici erano stati sottomessi. Oppure... oppure Persi non voleva neanche pensarci. I guerrieri che li accerchiavano aprirono un varco per lasciar passare qualcuno. Sembrava una figura del tutto umana, ma da come gli altri indietreggiarono alla sua presenza era chiaramente il loro capo. Indossava una panoplia greca da combattimento, elmo, scudo, schinieri e un pettorale decorato con elaborati disegni di mostri marini. Tutto ciò che aveva indosso era d'oro. Perfino la spada, una lama greca come vortice, era d'oro invece che di bronzo. Il ragazzo d'oro, pensò Persi ricordandosi il sogno, dovranno vedersela con il ragazzo d'oro. Quello che lo innervosì davvero però fu il suo elmo. La visiera era una maschera forgiata come la testa di una gorgone, sanne curve, orribili lineamenti contratti in un ghigno, e capelli d'oro a forma di serpenti arrotolati intorno al viso. Persi aveva già incontrato le gorgoni. La somiglianza era buona, anzi, un po' troppo buona per i suoi gusti. Annabeth si girò, ritrovandosi spalla contro spalla con Persi. Lui avrebbe voluto metterle un braccio intorno alla vita, ma dubitò che lei avrebbe apprezzato il gesto. E poi non voleva far capire a quel tizio d'oro che era la sua ragazza. Non aveva senso dare al nemico più potere di quanto già avesse. «Chi sei?» domandò Persi. «Cosa vuoi?» Il guerriero d'oro ridacchiò. Con un colpo di spada, così rapido da sfuggire perfino allo sguardo, lo disarmò, facendo volare vortice in mare. Fu come se gli avesse gettato in mare i polmoni, perché all'improvviso Persi si sentì mancare il respiro. Non era mai stato disarmato con tanta facilità. «Salve, fratello!» La voce del guerriero d'oro era profonda e vellutata, con un accento esotico, medio-orientale forse, che sembrava vagamente familiare. «Sempre lieto di derubare un figlio di Poseidone come me!» «Sono Crisaure, la spada d'oro!» «Quanto a quello che voglio!» La maschera di metallo si voltò verso Annabeth. «Beh, è semplice! Voglio tutto quello che hai tu!»